Una folle fuga in automobile per l'Alta Padovana, iniziata a Campo San Piero, dove il conducente non si era fermato ad un posto di controllo e che si è conclusa a Vigonza dopo aver attraversato mezzo Campo San Pierese, inseguito dalla polizia municipale e via via dai carabinieri di Piombino Dese, Campo San Piero, Rustega, Loreggia, Borgoricco, Cadoneghe e Vigonza. Imanete è finito un cinquantenne di Santa Giustina in colle, ma anche se oramai era stato bloccato, non è stato facile convincerlo ad uscire dall'automobile, tanto che due vigili colpiti con calci e pugni hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Alla fine il fuggitivo, che tra l'altro ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test, è stato condotto al comando della polizia locale di Campo San Piero. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.